Manca ormai poco a Transportec Logitech, l'evento più importante in Italia per i professionisti del trasporto e della logistica, che tornerà a Fiera Milano dall'8 all'11 maggio. Un'edizione più ricca che mai, che prova a sintetizzare in tre parole. Innovazione. Grazie alle proposte dei principali brand del settore, potrete scoprire quanto di meglio il mercato ad offrire, in termini di mezzi, prodotti e anche di servizi. In Fiera troverete infatti tutte, ma proprio tutte le case costruttrici europee di track, che coglieranno l'occasione di presentare tante prime, anche mondiali. Ma Transportec non è solo veicoli, troverete prodotti, servizi e soluzioni che vanno dalle tecnologie di bordo ai carburanti, dai rimorchi agli allestimenti più specifici, dalle soluzioni digitali ai servizi di logistica più avanzati. E non mancheranno tre aree, tre aree speciali dedicate a mercati in forte sviluppo, la logistica, l'aftermarket e le soluzioni più sostenibili per l'ultimo miglio. La seconda parola è formazione, perché solo aggiornandosi e confrontandosi si resta competitivi. In Fiera vi aspetta infatti un ricco palinsesto di convegni e workshop, realizzato in collaborazione con editori, associazioni di settore, per capire insieme dove sta andando il settore. E infine esperienza, vi sorprenderemo con percorsi speciali nelle aree esterne, dove si svolgeranno i test drive dei track e anche dei commerciali leggeri. E volete un motivo in più per visitare la Fiera? La contemporaneità con NME, Next Mobility Exhibition, la manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile delle persone, che potrete scoprire usando lo stesso biglietto di Transporteclogic. Allora vi aspettiamo a Fiera Milano dall'8 all'11 maggio. Grazie a tutti.